benvenuti ragazzi sono le vostre mina e mina e oggi ci troviamo insieme sulla poké destiny si ragazzi come è successo a me l'altra volta dopo tanto tempo che non erano passati 3 mesi però me l'ha dato lo stesso il server e il diamante anche l'area comunque ha dato l'area anche il diamante ora andiamo a vedere che pokémon riesce vediamo un po se è fortunata come l'altra volta andiamo ci sei aspetta eccomi vai ragazzi incrociamo le dita snorlax non ti piaccio non ti piaccio eh perché io vabbè io ho questo guarda cosa c'ho sbam 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 eh però anche questo qua è carino non lo sai chi è è l'evoluzione di evi si però non l'ho mai vista quella d'erba cioè una delle ultime che hanno fatto ok ragazzi perché non avevo pokémon erba allora ho hai fatto bene ok ragazzi torniamo a casa e facciamo vedere cosa abbiamo fatto via d'emmio google c'è google c'è google cos'è quella cosa c'è google c'è uno che si chiama google scusa boh vabbè allora ragazzi qui abbiamo tappato e ora andiamo a vedere su facciamo vedere cosa abbiamo fatto sopra ti sei malato qui niente eccolo qua sta da c'è un'altra parte accanto vabbè io scendo si si scendo vedete qua tutta un'altra parte di cane da zucchero e non è solo qua ma anche sopra scusate non sotto sopra qui e sopra ancora qua e io vengo qua per vedere qui l'ho fatta si vedete ragazzi questa è l'ultima che stiamo finendo di fare quindi oggi cosa che faremo faremo finiremo le farm così quando dovremo andare a raccogliere visto che le altre è da tantissimo tempo che non vengono sul server ma se dovrebbero venire c'è un po' cioè dovrebbe esserci abbastanza per tutti invece l'aria sta finendo quello laggiù quello laggiù sto cercando di sistemarlo sto cercando di sistemarlo vabbè però sta venendo bene e se abbiamo sia le cane da zucchero sia i cactus potrebbe esserci un po' di roba davvero davvero un po' di roba sabbia 51 dovrebbe esserci tutta e se la sabbia è pronta io andrei a mettere secchio d'acqua e facciamo anche lì abbiamo già fatto tre piani manca il quarto e il quinto e se abbiamo il quarto e il quinto dovremmo essere a cavallo ragazzi dovremmo essere davvero a cavallo perché oh manca lì finalmente iniziamo a fare anche noi le big farm e i big money così almeno iniziamo a comprare un po' di cose perché? guarda oh cosa? vai a vedere? ancora buggato? provo a metterlo da un'altra parte scusa qui va non lo so cioè il pokemon esce scusate un attimo ragazzi ora te la fa mettere ah forse l'acqua era buggata vabbè spesso è buggata ah bene bene molto bene comunque ragazzi vedete accanto che i pokemon stanno crescendo espirono al 44 l'ultima volta era al 35 meganium ah abbiamo ripreso meganium perché saccol diciamo era troppo lunga da fare se volete dopo cioè poi durante la serie lo facciamo ma prima voglio meganium perché a parte non avevamo un pokemon derba in squadra e poi perché anche lui potrebbe cioè ha molta difesa non come saccol però 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 ci sta cioè ha meno attacco quindi potrebbe essere usato per il aumento l'attacco dove vado il aumento l'attacco speciale e avendo l'attacco speciale con i i punti allenamento aumentati dell'attacco speciale appunto e la difesa già alta di sua sia di speciale che normale potrebbe essere potrebbe dare noia potrebbe quando lo so invece espion e soprattutto l'apras è stato allenato abbastanza infatti vedete 51 ora quelli lì ragazzi inizierò a allenarli da soli cioè non con l'aiuto del coniù di esperienza appunto per far aumentare l'epi l'apras voglio puntare tutto sulla sulla vita nel senso che deve avere una vita lunghissima che neanche con un fulmine li toglie metà e poi vediamo nelle lotte cosa succede e andiamo invece l'aria io non lotto l'aria non lotto però vabbè l'aria c'è il suo il mini blastoise è sempre quello lì no è il mini però quello mini non è tanto mini no come no perché velo in occhi è mini non mi ha detto che è brutto mini però non mi ricordavo se in una serie avevi il mini blastoise vediamo è davvero mini ragazzi quel che lo chiami mini no non è mini ecco scusa ok vuoi sentire la tua potenza bla 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 la lascia fuori guarda ecco quello è già fatto quello è fermo da tanto tempo comunque speriamo vedi questo occolo che è accanto a noi ferma da tanto tempo se ora se ora oh no ho bagliato 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 se ora non c'è più andiamo a fregargli qualcosa ma non puoi perché perché c'è la roba se non c'è più no cioè sono gli utenti che da tanto che non vengono gli viene bloccato tutto allora anche a noi no perché non è da tanto che non venevamo è tipo due settimane tre io intanto intendo tipo non so tre mesi piano piano se scende piano 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 ah che sonno ok siamo arrivati piano piano staccionate e finiamo qua poi dopo raccogliamo tutto e andiamo a vendere ragazzi guardate lì quante ce ne abbiamo sbam e sbam cosa mettiamo qui non ci serve abbiamo un po' di cose allora ah non ci sono le staccionate si fanno subito vieni 1 40 e facciamo staccionate 26 qui ragazzi siamo sempre nella 1 punto 7 punto 10 quindi 1 punto 8 quindi le staccionate si fanno sempre nella solita maniera perché prima cambiava no? in quella nuova cambia in quella nuova cambia com'è che si facevano ancora nuova? con il legno e le staccionate e i legnetti e legnetti no blocco di legno e lo stick no non cadere vai e le puoi fare anche colorate nel legno è vero no ancora sopra ma quanto ragazzi vedete c'è casino casino si niente niente 1 2 3 vedete ragazzi qua è dove si ferma non so se lo notate quindi vuol dire che questi blocchi ci potrebbero spaccare lì la dice ma che è che ti viene qua? vabbè potrebbe non venire nessuno però potrebbero anche venire quindi speriamo di no soprattutto voi che state vedendo questo video mi raccomando se venite sul server qua non iniziate a spaccare tutto perché sennò poi vengo io e vi spacco voi sbadabam e non dicevi nulla e loro non lo sapevano invece no perché potrebbe capitare anche a loro di non mettere bene le protezioni nel comando mettetele bene infatti vabbè io ho solo quanto quanti sono due blocchi due tre però puoi sparare anche te ora via ragazzi fa il monologo Ilaria io perché ho un monologo fa il monologo Ilaria Ilaria non la sentite mai parlare parlo sempre io e poi sapete che non è che soppia parlare tanto bene oh e grazie quindi ora fa il monologo Ilaria vai Ilaria ok grazie Ilaria perfetto è stato benissimo ci saranno altri monologhi di Ilaria sei cattivo devo fare un altro va bene scusa ti ho fermato è vero ti ho fermato troppo presto vai potrei continuare da mezz'oretta però va bene va benissimo ci siamo ne faccio un altro di piano va bene così che ne so che c'è quello che allora no ragazzi ho battito per le farm non so battito per le farm se le farm ti portano soldi in questo server io ne faccio a migliaia perché non dovresti fare soldi il server ti dice fai tante farm di cane da zucchero e di cactus e ricevi soldi che devi fa allora ti dice anche per allenare i pokemon devi andare lì siamo andati l'altra volta abbiamo allenato l'ho scoperto ecco perché ragazzi ci sono pochi ma si io non ce l'ero vabbè dopo ti ci porto bravo però devi avere dei pokemon tipo dal 30 a 50 fino a 2 al 30 ok primo piano fatto andiamo giù ok qui pronto bisogna apprendere vedete ragazzi cioè guardate come si sta riempiendo di già cioè prima se non si aveva anche questo lato questo qua era quello che si poteva fare in un giorno solo invece ora abbiamo circa 3 stacche in più quindi avendo 3 stacche in più vuol dire che con 3-4 raccolti abbiamo finito ecco perché ora ci mancano altri 3 piani quindi bisogna fare 2 piani qua tipo uno sopra e uno sotto sotto e poi abbiamo finito e uno sopra di là di qua e poi ragazzi è pronto quindi lì bastano davvero due raccolti per avere tutto l'inventario pieno e prendere quant'era 2160 mi sembra 2160 money da spendere poi nelle mt oppure in altre cose tipo anche abbiamo scoperto abbiamo scoperto abbiamo scoperto abbiamo scoperto abbiamo fatto vedere anche io ho scoperto come fare le come far accoppiare i pokemon e come diciamo settare il 9x9 il quadrato 9x9 con il coso che dove tenere le uova dentro però non capisco vedi forse ora l'unica cosa che bisogna capire è questa cioè visto che lì dentro ci metti l'uovo come fai a farglielo fare l'uovo cioè prima devi averci un uovo prima di farlo però l'uovo come fai a farlo mi manca questo passaggio non so perché non puoi metterci dentro una macchina il pokemon intero vai tipo se vuoi fare la farm noi allora io ho io ho un growlit shiny quindi visto che tanto si vendono anche i pokemon più alto sarei andato di cosa hai fatto te no e in ciclo ti ha fatto questo che ne so ragazzi mi giro c'è l'aria che è tipo dentro una farm di cactus gigantesca e penso appunto dicevo c'era un muro un muro di cobblestone gigantesco cioè in quanto ho parlato un'ora meglio ragazzi ancora meglio diciamo di moltres o moltres shiny e voi dite ma non c'è un altro moltres ma io non sto pensando a un altro moltres sto pensando a un pokemon che potrebbe fare diciamo le veci di altri dell'altra parte se uno è femmine uno è maschio che è appunto ditto però ditto non so dove si trova non so quanto è raro guardate ragazzi guardate c'è una una striscia abbiamo fatto più di una striscia come ha fatto ditto 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 è una melma ah è quello è quello colorosa quello ditto è colorosa non ho mai visto ditto si ho capito ok quindi ragazzi ci serve lui per fare mi sa diciamo che mi sa che tutti usano lui ok siamo pronti possiamo andare a vendere intanto facciamo vedere l'aria cosa ha fatto andiamo a vedere io che ho fatto niente non venire sto distruggendo tutto come perché perché non va dai ragazzi cadiamo andiamo a vedere l'aria eccola l'aria bam praticamente qui c'è la vabbè ora metà l'ho spenta c'è l'acqua che scende giù no si sono 8 blocchi si e poi dopo 8 finisce si allora ho messo l'acqua qua per farla scorrere far postare al centro e non va e allora la faccio come l'ha fatto quell'altro ragazzo dove ero e dov'è e cioè cosa ha fatto c'è uno al centro si tipo fa un vortice un vortice si nel senso che si si così ok va bene allora intanto ragazzi noi andiamo in casa slash home e guardate qua possiamo tutto e lo possiamo tutto appunto qui dove c'è scritto la farm di canne da zucchero tutto lì prendiamo tutte le canne del zucchero anzi ce ne avanzano anche quindi presto andremo a fare altri soldi altri dindini ecco allora questi ci avanzano e andiamo a vendere work shop e di nuovo riacquistiamo un po' di soldi e sbam non devi chiudere l'episodio si infatti faccio vedere money 2718 e con questo bellissimo risultato portato a termine chiudiamo l'episodio e ci vediamo in un prossimo spero prestissimo spero prestissimo come sempre credo domenica esce la popi desti quindi la prossima domenica o la prossima ancora vedrete fatte altre farm e appunto andiamo ad allenare i pokemon di laria quindi ci vediamo nel prossimo episodio da minio e miei amici è tutto linea ciao ragazzi dai iscriviti a coronale dai tu iscriviti dai mari 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 ciao tu iscriviti 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 Grazie a tutti.